Mi pare interessante che in realtà della rassegna ci sia anche dentro questo tentativo di fare conti con le compatibilità non solo finanziarie, ma anche culturali e anche sociali. La rassegna ci sia anche dentro questo tentativo di un'operazione del genere. Se vediamo che la struttura non è soltanto l'aspetto, come dire, statico, di strutture, di spazi, eccetera, ma in qualche modo quello che è l'aspetto dinamico della costruzione, non dell'interazione a livello sociale che porta a crescere in cultura. E questo è quello che sia la costruzione più giusta di una città come la nostra. Quindi cerco, e seguisco, o devo rispondere alla domanda? Sì, sì, sì. Io adesso, se dovessi essere sincero, dovrei andare a tempi, a tempi in cui io sono arrivato a livello l'albaese, l'albaese, in tante anni fa, subito dopo l'albaese. Sì, sostanzialmente. Ed erano quelli detti che si cominciava a dare al cinema. Allora, a fine, c'era il cinema grosso, c'era, io mi ricordo, il cinema grosso, e allora, un film che mi è rimasto in flesso, non posso dire che mi ha cambiato l'albaese, poi mi ha parlato nulla di quello che rispondeva a quei film, forse anzi è tutto il contrario, però di quello che mi ricordo, vengono questo film, perché volevo sorprendere più di una volta, e invece i miei creditori non mi consentivano, le rinforzano, adesso tu non hanno, le due, e no. Ed era il film con parleraschere. Se non vavi tornando a forumschere, con cosa che si è vero, si è vero, si è vero, si è vero. In questo film che mi è rimasta una fantasia, e poi in altri altri, ma questo mi è rimasto messo, per questo motivo ho fatto, perché vorremmo vedere come si dice ancora una volta, ma il giorno dopo, Grazie.